siamo qui di fronte a questo prodotto si chiama kraft è un pannello ceramico evoluto quindi con una struttura estremamente classica nella sua robustezza ma quello che conta è l'effetto di superficie come nella maggior parte dei pannelli ceramici odierni l'effetto finale quell'effetto che si riesce a dare sulla superficie del prodotto è quello che crea e genera il vero valore del prodotto stesso si siamo rifatti a un concetto di artigianalità di fatto bene con questa trama che da l'idea del tessuto e che abbiamo voluto allargare proprio per rendere molto intellegibile per non lasciare ambiguità sulla fonte di ispirazione quindi c'è questa questa trama molto fitta ma ma anche leggibile e quindi la trasmissione l'effetto che diamo è un effetto estremamente caldo che in qualche modo evoca sì il tessuto ma non lo riproduce proprio per non creare un effetto diciamo di falsificazione del prodotto non è una riproduzione di un tessuto ma è un'interpretazione di tessuto e in questo crediamo che ci sia un valore aggiunto cercando di dare proprio anche seguendo quello che è il tema del nome questa artigianalità ben fatta cercando di dare al prodotto questo tipo di qualità visiva naturalmente poi queste collezioni hanno una gamma di colori estremamente vasta siamo qui stiamo presentando otto colori otto colori tutte su delle tonalità naturali perché comunque quest'anno il gruppo ricchetti ha lavorato molto su questa idea di naturalità che sottende anche un concetto di eco sostenibilità